Ciao ragazzi, siamo evidentemente in partenza, o meglio, siamo già partiti. Siamo già in movimento. Diciamo che aprile porta sempre bene perché ci sono diversi punti, weekend lunghi e quant'altro. E conclude con un altro weekend lungo. Le previsioni non sono delle più belle, anche se oggi c'è ancora il sole, ma noi che se ne frega. Oggi andiamo in un posticino che era nella nostra lista, è famosa per un evento che fanno ogni due anni vestiti nel 400, se non ricordo male, e si mettono a giocare a scacchi in piazza. Come vedete, alle nostre spalle si iniziano ad intravedere le mura, anche qui sopra si vedono. Siamo in una famosa città murata, ma non tanto famosa per le sue mura, tanto più famosa per una... Come sentite dalla parlata, siamo a vicinanza. Famosa per una meravigliosa partita a scacchi in costume del 400. Ed ecco alle nostre spalle la famosa scacchiera. Famosa per una meravigliosa partita a scacchi in piazza. Non si vede bene adesso. Qui dietro di noi ci sono le mura, siamo saliti sulle mura. E da qui sopra, che è il castello superiore di Marostica, si riesce a vedere la famosa piazza con la scacchiera, con il castello inferiore. E da qui sopra, che è il castello inferiore di Marostica. E da qui sopra, che è il castello inferiore di Marostica. Grazie. Grazie.